L'auditorium Cesare Baronio di Sora ha ospitato sabato 6 aprile il convegno Voce e Linguaggio, un evento organizzato dalla dottoressa Dora Lombardi come momento di riflessione per individuare le strategie necessarie ad affrontare i disturbi della voce e del linguaggio orale e scritto in età evolutiva e adulta. L'incontro, rivolto principalmente a insegnanti, professionisti della voce, riabilitatori, pediatri e genitori, ha voluto evidenziare come la sinergia tra diversi specialisti porti ad elaborare un corretto e personalizzato piano terapeutico. Ho ritenuto opportuno organizzare questo convegno dietro richiesta degli insegnanti e di genitori, appunto perché chiedevano dei validi aiuti su come intervenire sulle problematiche di apprendimento, disturbi specifici del linguaggio e disturbi di attenzione. La cosa più importante, che voglio mettere in risalto in questo convegno, è che spesso si ritiene la logopedista l'unico professionista responsabile che può curare e può fare terapia su tutti i disturbi della voce e del linguaggio. Ma non è assolutamente così perché se non si interviene tramite un'equip multidisciplinare non è possibile portare a termine un obiettivo, un programma di riabilitazione personalizzato ed adeguato. Per questo è indispensabile che collaborino i vari professionisti tra loro per avere dapprima una diagnosi, poi un confronto fra i vari riabilitatori e portare e raggiungere degli obiettivi per risolvere le varie patologie. Volevo ringraziare per il patrocinio e per tutto l'aiuto che hanno dato sia la provincia di Frosinone, sia il Consiglio regionale del Lazio, sia l'ASL di Frosinone e anche l'ordine di TSRM di Frosinone, che è l'ordine che raggruppa tutte e 18 le professioni sanitarie della riabilitazione. Per noi è un tema molto importante quello dell'infanzia innanzitutto, quello dei disturbi del linguaggio, stiamo seguendo molto anche il problema dei disturbi specifici dell'apprendimento. Fare un focus sui disturbi del linguaggio, una delle cause di grande impatto sociale che riguarda i nostri bambini, è grande preoccupazione anche per noi in regione, per me come Presidente di Commissione Sanità. I dati sono assolutamente allarmanti, abbiamo un incremento di questo tipo di disturbo e dobbiamo essere in grado di dare risposte che parlino di sinergia, di lavoro di squadra, di equip e su questo stiamo lavorando. Tant'è che anche la stessa ASL di Frosinone, visto che siamo qui a Frosinone, ha chiesto di essere autorizzata ad assumere un maggior numero di neuropsichiatri infantili, di locopetisti, perché dobbiamo essere in grado di dare risposte alle tante famiglie e la precocità dell'intervento penso che sia fondamentale sugli esiti, non solo funzionali ma anche sociali, visto che purtroppo i bimbi che hanno questo tipo di problema sono tra le maggiori vittime anche di bullismo. Oggi parliamo di body shaming, purtroppo oggi assistiamo anche al voice shaming e questo veramente preoccupa molto da politici e da madre, permettetemi. Stare vicino alle fasce più deboli, ad operarsi per le fasce più deboli, è sicuramente motivo di orgoglio da parte sua che lo fa, ma soprattutto da parte nostra che c'è qualcuno che si occupa di queste cose. Noi come provincia di Frosinone abbiamo dato il patrocino, siamo stati vicini a queste iniziative e non potevamo far mancare oggi il nostro sostegno. Sono qui anche in rappresentanza del Presidente Di Stefano, proprio perché riteniamo che sia importante dare dei segnali forti, sul territorio, ma soprattutto dei segnali di vicinanza alla popolazione, alla gente che è affetta da queste problematiche. Io dico che dobbiamo ringraziare tantissimo le associazioni, dobbiamo ringraziare tantissimo le persone che si operano e si adoperano per alleviare le sofferenze delle famiglie, perché poi non dobbiamo pensare solamente al caso specifico e al caso di specie proprio che ha queste difficoltà dal punto di vista oggettivo, ma anche alle famiglie che a volte si sentono sole. Abbiamo celebrato la settimana dell'autismo, quindi siamo stati vicini anche a questo problema, ma soprattutto ci sentiamo vicini un po' a tutto il mondo del sociale e dobbiamo ringraziare coloro che si adoperano, perché spesso e volentieri noi istituzioni a volte pecchiamo e se non ci fossero delle associazioni, se non ci fossero queste persone che si dedicano al mondo del sociale, al mondo delle persone diversamente abili e che hanno difficoltà, sicuramente ci sarebbero ancora più difficoltà di quelle che hanno. Veramente tanta vicinanza alle famiglie. Al centro del convegno tutti i disturbi della voce, del linguaggio e delle patologie connesse anche a disturbi ortodontici e funzionali o anatomici della lingua. A questo convegno parteciperanno, ci sarà il pediatra Pontone, che rappresenta tutti i pediatri della provincia di Frosinone, ci saranno ortodontisti, relazioneranno soprattutto la dottoressa Chiara Camastro e Fabio Annalisa, ci sarà l'osteopata Gerardo Palmisano, sia sull'età evolutiva che sugli adulti, e ci saranno delle psicologhe, sia sull'età evolutiva che sugli adulti, la dottoressa Chiara Iannarilli, di Frosinone, e la dottoressa Maria Cristina Marchione, che lavora su Sora. Tra i vari collaboratori ringrazio inoltre il dottor Luigi Alonzi, ottorino laringoiatra, con il quale collaboro molto sulle disfonie, sia per i bambini che per gli adulti, e che oggi sarà presente e farà il suo intervento. Ringrazio tutti i miei colleghi presenti e anche quelli che non sono venuti al convegno, ma questo è soltanto l'inizio, per poi approfondire queste problematiche.